Eccolo la testa del re, l'ho trovata! E' stata appesa! Ma che è? Oddio che brutto! C'hanno un gusto un po' dubbio eh? Oddio mi raccomando delle robe a quanto di scutini Oggi andremo al castello di Comui, patrimonio dell'UNESCO Sulla costa nord del Galles Bello! Eccolo il castello! Ma guarda che bello! Sembra di stare in medioevo inglese Bello sì No bello Oh! Oh! Cosa fa? Eh ma cazzo è il simbio e le cazzo Oh le gambe io non c'è Eh sì ma io penso come segnalo E' una rotonda? Ho capito Abbiamo beccato anche la maratona della Gran Bretagna Qui intanto c'è il castello di Comui Che è patrimonio dell'UNESCO Sei matta o non è indietro? Guarda facciamo via Mura dai è bello secondo me Oh qua ci potrebbe essere qualche presenza eh Veronica io farei una foto perché magari qua forse Invortali qualcosa Io voglio fare una foto lassù Tipo a quel picciore Fai qualche foto? Hai visto mai che rimane dentro impresso qualcosa? Ah ecco io tutti gli zoom che ho fatto non l'ho mai messo a fuoco in realtà Con vista lavoro in corso che rovina tutto Beh però la vista è bella qua Grazie a tutti Questa si chiama la killing place questa qua Dove praticamente sparavano C'erano dei buchi delle fosse come delle trappole E sparavano e facevano entrare gli amici e i nemici fuori No dicevo che praticamente il re si trova ancora nella in questa residenza Quindi la sua testa è da qualche parte E allora noi siamo qua per trovarla infatti Prendi la vanga Ma forse potrebbe essere su questo prato a sto punto Sì Non lo voglio dire Entriamo qua dentro Ma allora sto salone che dicevano dovrebbe essere uno di questi magari Guarda che bello anche quest'arco Ecco King's Hall Questa mi sa che è la stanza del re La stanza del re Ah è vero O la stanza oppure dove c'era il trono Beh probabilmente era lì Qui forse c'era Chissà qui che Probabilmente il trono? No un camino secondo me mi viene in mente Beh guarda un po' se c'è la Cup of Mario Vediamo Sì Sì Cara Nini orciai acchiappato Non sono così È proprio un camino Che figata Qui c'era qualcosa Cioè Cioè sembra proprio il gioco Infatti mi ha dato una foto a Vale che ti ha detto bellissimo Ma questo organo che suona? Eh? Questo organo? Ecco Firmiamoci un attimo Perché nel video si dice Si dice che appunto Sento una musica di onda Che non è niente di particolare Se non fosse che tu non hai sentito niente Io no Niente Poi infatti rivedendo il video Non si sente neanche nel video E là Io ho una telecamera accesa Ma con un punto in cui l'ho detto Quindi questo è un po' strano Diciamo quindi È un po' strano E poi ripensandoci Quella zona del castello È anche rivolta al punto Comunque fuori dal paese E quindi Presumo non ci fosse Chiese o quant'altro Ovvero il castello abbandonato Non ci sono strumenti Quindi rimane un po' questa cosa un po' strana Poi però abbiamo letto Che ci sono stati degli avvistamenti Proprio lì dove eravamo noi Di fantasmi monaci E questa cosa l'abbiamo comunque saputa dopo E' una cosa che abbiamo saputo dopo Quindi non è che eravamo suggestionati Da queste informazioni No esatto Diciamo che rimane il dubbio di questo organo misterioso L'organo misterioso Ma dopo ne vedremo Ancora più delle belle E' una cosa che mi piace E' una cosa che mi piace E' una cosa che mi piace